Le sensazioni sono buonissime perché, come dicevo prima, ho visto lavorare la squadra in maniera molto seria, molto attenta. Gli abbiamo creato il pieno delle possibilità, le attenzioni, perché c'è stata roba una dopo l'altra di continuo e l'hanno presa tutta e l'hanno sviluppata bene, la roba che gli abbiamo messo davanti. Poi non si può dire di poter inserire il pilota automatico, però siamo sulla strada corretta, siamo sulla strada buona. Abbiamo tutto per fare il nostro percorso fatto bene e domani c'è da dare inizio. Ecco, bisogna per forza rispettare la passione di tutte quelle persone, quando si veste questa maglia, rispettare la passione di tutte quelle persone che credono in noi, che abbiamo dietro e credono in noi. Per cui c'è da farlo vedere subito questo discorso qui. Perché a voi mi faceva piacere che portassi i fagioli, perché è quello che, per cui sono stato un po' richiamato per averlo portato in questo raduno. Ecco, per cui ho detto sentiamo anche lui, se ci convince poi e via dicendo, deve dare le risposte. Questi dieci giorni per lui sono fondamentali. Poi, si dice sempre, siamo arrivati lunghi, siamo arrivati stanchi, siamo arrivati lunghi, siamo in fondo del campionato, qualcuno è stanco. Se se ne ha uno riposato non ci va bene perché non è allenato. Sì, Gatti verrà in Germania e sì, Pellegrini può essere un numero dieci. Però anche Barella può essere un numero dieci. perché è uno che ha le giocate che ti colgono di sorpresa.